Ha preso il via questa mattina anche a Salerno la prova selettiva del concorso per docenti. In campagna i candidati sono oltre 56.000 per 1.500 posti. Per la prova sono due giorni, 50 domande a risposta multipla, estratte tra i 3.500 quiz diffusi dal Ministero. Sono 249 le scuole, 8.500 le postazioni in tutta la regione, sedi di concorso. Istituti quasi tutti chiusi agli studenti proprio per consentire lo svolgimento della selezione. Il punteggio minimo per superare il test è di 35 punti. I candidati devono rispondere a domande di logica, di comprensione del testo, informatica e una lingua straniera indicata durante la fase di iscrizione. L'esito della prova si conosce subito mentre l'elaborato potrà essere visionato a partire dall'8 gennaio.